Boris Carlo Fischetti è autore di Monologhi d'amore e altre storie, una raccolta di poesia in tre volumi che raccoglie le emozioni di una vita. Voce all'autore. Chi è Boris Carlo Fischetti e quando diventa scrittore? Dunque, c'è scritto nella presentazione nella quarta di copertina, perché io non sono un poeta così di professione, ma per me ho risolto un'intensa attività nel campo editoriale, che poi la poesia per me, o come ho scritto anche in quella presentazione, è una sorta di evasione dello spirito nella sfera magica dei sentimenti, un intervallo necessario per ricaricarsi nel ritmo di un lavoro particolarmente impegnato, perché ho lavorato in campo editoriale, presso la mia società Reider, e ho curato l'inizio delle riviste con il giornale di agricoltura, l'Italia agricola, che sono le più piccole testate italiane nel settore agricolo, che avevano oltre un secolo di vita, e l'ho rinnovato secondo le esigenze dei tempi del loro, negli anni 70-80, e poi dopo soprattutto ho curato l'enciclopedia integrale italiana della Reider, che è un'enciclopedia che chiamavano la Freccani dell'agricoltura, che conosciuto un po' tutto il mondo, se li hanno nelle biblioteche come l'Usa Moschia, Pecchino, ce li hanno chiesto, insomma. Sì, è un'opera che ha un certo peso, sono 12 volumi, lei dice. Sì, sì, esatto. Come la Freccani, infatti, quando fu completata l'opera, venne a presentarla una, il direttore della Freccani, allora, che fece la presentazione di quest'opera, è un'opera di libro mondiale, diciamo. Infatti, lei per la competizione di quest'opera si è abbalso dell'aiuto di tecnici, di specialisti, di scienziati. e tutti i professori molto qualificati di molte università italiane e i tecnici di alto livello, perché l'enciclopedia è un'opera impegnativa che va curata nei dettagli, insomma, in area della sostanza. Certo. E per le esperienze, quindi, nei momenti così di riposo, magari in viaggio, in crino, in macchina, mi abbandonavo un po' l'idea del lavoro e mi trasferivo nel mondo dei sentimenti, portavo giù qualche poesia, memorizzandola, poi dopo scrivendola, quando arrivavo alla fine del viaggio. Certo. Cambiamo genere, passiamo dall'enciclopedia alla poesia, appunto, e parliamo del suo libro Monologhi d'amore e altre storie. Un libro in tre volumi. Come mai hai scelto questo titolo, Monologhi d'amore e altre storie? Beh, dipende proprio da quello che vi dicevo prima, dal fatto che io ero immerso nell'attività professionale e poi cercavo un'evasione e per me il concetto di amore è sempre stato un concetto fondamentale, che è la ragione di fondo della nostra esistenza, vista da uno come me che non ha il senso dell'egoismo, della solitudine, dell'ambizione personale che vuole apparire. A me piace condividere delle emozioni, delle sensazioni e quindi la strada per arrivare a queste cose è quella dell'amore nel senso così più generale, perché insomma, è un po' quello che richiamo adesso anche a Francesco, anche per lui l'amore, nel suo senso generale, è una cosa importante per tutti, perché è un mondo senza amore, è un mondo che vale poco, anche dal punto di vista così singolo e individuale, se no c'è la mia idea e la solitudine, come la chiamo io. La prima parte di Monologhi d'amore e altre storie si intitola La vela dell'emozione. Esatto, e questo lì dice un pochettino così della mia moda di sentire la poesia, che non deve essere qualche cosa di formale, ma di sostanziale, deve parlare non attraverso l'estetica e la bellezza dei versi, che non dispiacciono certamente, ma non possono essere dello scopo della poesia, perché la poesia deve scoprire, fare scoprire qualcosa di più profondo nella intimità della nostra spiritualità, della nostra persona, del nostro essere. La seconda parte invece è installata sogni d'amore. C'è ancora sogni d'amore, perché naturalmente il mondo così, l'amore come io lo concepisco, l'interpito, è una cosa che nella quotidianità, viene essendo in un modo diverso, è un rapporto di interesse, è un rapporto di effetto, però il sogno d'amore è il sogno di un rapporto che è trascendentale, direi, cioè non è che si trascura l'aspetto fisico dell'amore, però deve essere adestito da qualche cosa di più profondo, in maniera che raggiunge un contatto con un'altra persona con una quale scambi l'amore, perché non è che l'amore si dona o si prende, si scambia, perché se non c'è scambio non è l'amore. E quindi hanno i sogni d'amore perché non è una concezione siccome è così molto, molto diffusa perché viene vissuto in un modo un pochettino diverso da quello che è il mio punto di sogno d'amore. Veniamo ora alla terza parte di Monologhi d'amore e altre storie. Lei ha scelto un titolo in questo caso doppio, Filosofando e Fede e ragione. Ecco, allora, Filosofando è una raccolta di polire nelle quali ci sono gli spunti di carattere filosofico nel senso che sono delle meditazioni sulla vita, sul nostro comportamento, sulla realtà del mondo, eccetera, e quindi sono così delle ragioni filosofiche in un certo senso. Invece Fede e ragione è un mio modo di vedere. Dico non sono credente, non sono attio perché scoprirò quando sarà il momento. Perché la religione in sé è bene, chi è si deve, chi è credente ha tutti i diritti di farlo, naturalmente, però a me piace, piacerebbe un dialogo diretto. scrivo in una delle mie poesie rivolgendomi al Padre Eterno non mi mandare in sussi mediatori in bello al topo. C'è la formalità della religione e secondo me molte volte prevalicano quello che è il vero rapporto che ci deve essere tra noi e quest'essere superiore che ci sarà riscontreremo insomma. Io non l'ho incontrato se mi guardo in giro e vedo i disastri del mondo dico però termina come una battuta dico il mondo l'avrei fatto meglio insomma. Quanto tempo hai impiegato per la scrittura di monologhi d'amore? Sento questo posso dire 40 anni nel senso che non mi sono messo a una scrivania a scrivere un libro di poesie come le dicevo sono il diario della mia vita come ho scritto durante la mia esistenza sono un appogionario e durante la mia esistenza nei momenti di emozione di riflessione eccetera buttavo giù una poesia di non mai stando seduta la scrivania ma appunto come le dicevo prima nei momenti in cui io facevo un viaggio in movimento una passeggiata una camminata di vacanza una camminata nei boschi o in rito al mare quindi non è un sotto di una cosa scritta anche voi al giorno riuscirebbe a racchiudere in una frase cosa significa questo libro per lei e cosa vorrebbe significasse per i suoi lettori prima di formulare l'affare che fosse miseramente io non l'ho pubblicato per la decisione di pubblicare perché di fatto ho aspettato 30-40 anni prima di pubblicare non avevo mai intenzione di fare una pubblicazione perché era un dialogo con me stesso poi mi sono orco perché ho pensato che qualcuno poteva far piacere interessare e condividere certi sentimenti e quindi ho cercato di mettere a disposizione e in realtà poi il mio comportamento non ho venduto una copia del libro ma mi sono fatto mandare un certo numero di copie a casa e le ho distribuite agli edizioni delle persone conoscenti a quello che pensavo e penso che possano essere interessati a condividere a scoprire fino a me certe cose certi misteri certe emozioni sensazioni che sono le parole del corrente e quindi una frase mi piace la profondità dei sentimenti e mi piace condividerli con chi ha questa sensibilità come la mia e per questo ho messo ho fatto la pubblicazione e si conclui monologhi d'amore e altre storie di Boris Carlo Fischetti è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it 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 Grazie.